Un intervento atteso da anni dalla marineria e dagli esercenti delle attività portuali. È iniziato ufficialmente il conto alla rovescia per il taglio della diga foranea. Due giorni fa l'apertura del cantiere dei lavori. Ieri il sopralluogo da parte del presidente della regione, Luciano D'Alfonso, e del responsabile della segreteria della presidenza della giunta regionale, Enzo Del Vecchio. Proprio la regione ha finanziato l'intervento per un importo di 3 milioni e mezzo di euro. I lavori saranno condotti dalla RCM Costruzioni di Sarno e dovranno essere conclusi entro dieci mesi con l'obiettivo di riconsegnare alla città uno scalo accogliente, sicuro e funzionante per lo sviluppo economico e turistico della città, come ha sottolineato lo stesso Del Vecchio, che così illustra il programma dei lavori di questo periodo. Si stanno recintando le aree per poi proseguire all'inizio della prossima settimana con l'arrivo del pontone e delle ruspe che già cominceranno le operazioni vere e proprie, non solo quelle di demolizione della diga foranea, ma anche quella della costruzione degli elementi che andranno poi a definire la nuova diga foranea. Tutta l'area della banchina e anche del porto sono in corso i lavori di recinzione e cantieramento per conseguire proprio questo risultato. Di più, nella giornata di lunedì prossimo ci saranno anche i lavori di approntamento dall'altro lato della banchina del Molo, dei lavori riguardanti la soffolta. Come è noto ormai, entrambi i lavori sono stati affidati dalle imprese aggiudicatari a un'unica impresa e quindi i lavori andranno avanti in simultanea. Realizzazione della soffolta a nord con demolizione della diga foranea.